Musica Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura parliamo della spiaggia di Torre Quetta. Rischia di finire in tribunale la polemica politica contro il sindaco Emiliano e i consiglieri di opposizione. Uno scontro a colpi di carte bollate. Mirko Cafaro E' polemica a colpi di carte bollate tra il sindaco Emiliano e l'opposizione in consiglio comunale, pomo della discordia, la spiaggia di Torre Quetta. Da un lato il primo cittadino che ha denunciato alla Procura della Repubblica i consiglieri di centrodestra per procurato allarme a seguito dei presunti riferimenti alla presenza di Amianto nel sito di Torre Quetta durante l'ultimo sopralluogo dell'opposizione. Dall'altro la replica stretto giro della minoranza che rilancia il ricorso alle vie legali per alcune espressioni utilizzate nei loro riguardi proprio da Emiliano. Una minoranza che ha risposto con sarcasmo alle parole del sindaco nei confronti del quale si è detta pronta a denunciarlo per procurata aspettativa per il mancato avvio dei lavori di restyling del litorale di San Girolamo e turbativa di quiete nel caso dell'occupazione dell'ex mercato di via Carrante. A margine quindi è arrivato anche il chiarimento del consigliere della lista Simeone Giuseppe Loiacono sulle parole utilizzate in occasione del sopralluogo a Torre Quetta. Sentiamo. Ci siamo limitati a dichiarare e a denunciare che i lavori eseguiti l'anno scorso o parte di essi che hanno avuto un costo di oltre 6 milioni di euro non hanno prodotto gli effetti sperati e né la dimostrazione lo stato del luogo in cui versa la spiaggia. E intanto sulla sicurezza della spiaggia cittadina è intervenuta anche l'ARPA con il direttore, il professor Giorgio Assennato. Non c'è assolutamente amianto sulla spiaggia. La messa in sicurezza permanente ha funzionato e proprio le mareggiate scorse hanno provato che è stata una efficiente messa in sicurezza. E adesso l'ampia pagina politica. Bari nel weekend si è trasformata in palcoscenico della politica nazionale con la convention del PD, mezzogiorno di fuoco alla presenza tra gli altri dell'onorevole Massimo D'Alema, mentre Futuro e Libertà ha chiamato a raccolta i giovani con il presidente della Camera Gianfranco Fini e l'onorevole Italo Bocchino. Vediamo i servizi di Alessandra Bucci e Cristina Ferrini. La confusione, l'incapacità, le polemiche inutili che hanno caratterizzato l'azione del governo di fronte a questa prevedibile emergenza di rifugiati che giungono dal Nord Africa è stata veramente impressionante. Io credo che se mancava una prova dell'assoluta inadeguatezza del governo del nostro paese, della sua incapacità ad affrontare qualsiasi problema dell'Italia, nel corso di queste giornate questa prova è risultata assolutamente clamorosa, evidente. Che cosa sta accadendo in questo partito democratico, questo processo di rottamazione iniziato a Firenze e riuscirà i sorrisi anche qui nel Meridione? Guardi, questa assemblea è molto interessante. È nata dalla volontà di un gruppo dirigente giovane del Mezzogiorno di fare sentire la sua voce ed è un'assemblea che oltre ad essere ovviamente una sfida verso la politica antimeridionale del governo e anche un forte richiamo al Partito Democratico perché il Partito Democratico dia voce al Mezzogiorno e parta dal Mezzogiorno nel suo progetto di rinnovamento del paese. L'assenza di la Torre oggi è indicativo di una presunta frizione? Non lo so, se vuole gli telefoniamo, non credo. Poi deve chiedere a lui, diciamo. I giovani di Generazione Futuro hanno accentuato nella due giorni della Convention di Futuro Libertà a Bari il disagio del mondo giovanile per il lavoro precario e per quello che non c'è. Ovviamente hanno trovato una sponda nell'intervento del Presidente della Camera Gianfranco Fini il quale non ha mancato di lanciare i suoi strali anche su questo argomento contro il governo Berlusconi. Ma la Convention di Futuro Libertà ha ribadito l'opinione del Partito sui temi centrali dell'attuale dibattito politico riforma della giustizia, riforma della Costituzione politica europea. Noi siamo convinti, come tutti gli italiani, che ci sia bisogno di una riforma della giustizia però se questo significa mettere sotto controllo i pubblici ministeri o fare delle norme ad personam diventiamo contrari. Invece la posizione di Futuro Libertà su una possibile riforma della Costituzione? Noi siamo sempre stati convinti che ci sia bisogno di riformare la Costituzione, ridurre il numero dei parlamentari superare il bicameralismo perfetto e chiarire i rapporti tra potere esecutivo e Parlamento. Ovviamente non si è creato il clima perché Berlusconi ha avuto lo scontro permanente e pertanto anche questa legislatura passa senza poter fare le riforme che servono agli italiani. L'europarlamentare Salvatore Tatarella sottolinea l'ottimo stato di salute, di Futuro Libertà e del rapporto delle regioni meridionali con le scelte del Presidente Fini. Come affronterete le amministrative e poche candidature nel centro-destra? Le affrontiamo con le difficoltà di un partito appena nato, però siamo presenti quasi in ogni comune e quindi ci aspettiamo un buon risultato. Ripeto, sempre compatibile con la organizzazione ancora modesta di un partito appena nato. La Puglia si conferma luogo di laboratorio politico. La due giorni del PD e di Futuro e Libertà fanno il punto sulle istanze delle regioni meridionali. La nota del giorno di Michele Cristallo.